Stazione 31 luglio 2014 All'improvviso il treno si fermò e le porte si aprirono. Era una piccola stazione, tra le tante che sfilano veloci e anonime lungo il viaggio. Peppino si voltò e, fissandomi deciso con i suoi occhi genuini, ci disse «Io scendo qui. Ho una coincidenza da prendere al volo che mi porterà verso la mia nuova destinazione. Lo vidi uscire dallo scompartimento nel silenzio attonito di tutti, per poi fermarsi sotto la pensilina con la sua preziosa valigia di cartone, da sempre intima depositaria dei suoi affetti più cari. Un ultimo silenzioso sguardo, accompagnato da una mano timidamente alzata, a far vedere il palmo e un sorriso forzato, quasi a voler sostituire la voce per dire «Attio». Poi il treno della vita lasciò la stazione del 31 luglio 2014 e riprese il suo viaggio.